Il futuro è qui, Canon EOS R5 Mark II è stata annunciata da Canon e quindi stiamo aspettando l'uscita di questo nuovo fantasmagorico modello, oggi vi voglio parlare delle specs che sono trapelate. Ciao a tutti amici, benvenuti o bentornati sul mio canale, per chi non lo sapesse io sono Cesare, questo è un canale che si occupa di fotografia, video making e design. Io vi invito preventivamente a lasciare un like a questo video così mi aiutate con l'algoritmo e anche a seguire il canale attivando la campanella per non perdere tutti gli aggiornamenti. Per invogliarvi ulteriormente vi posso solo dire che tutti i miei contenuti sono realizzati con materiali 100% riciclati, l'iscrizione al mio canale è gratuita, non macchia e fa bene alla pelle. Molto bene ma tuffiamoci subito dentro nella polpa di questo video, ora mi perdonerete se vado a leggere ma non mi imparo a memoria le specs di una camera che non è ancora uscita e che sicuramente non acquisterò. Andiamo con ordine e vediamo che questa fotocamera avrà 61 megapixel con un sensore CMOS BSI. Ora questo che cosa significa? Questa è già la prima nota dolente, infatti dall'anteprima del video qualcuno già avrà intuito che io non sono stra entusiasta di questa nuova fotocamera, 61 megapixel. Ragazzi per chi non lo sapesse io vengo da un'esperienza molto molto bella con Canon EOS R5, l'originale. Vi linko i video in card, andateveli a recuperare perché ho fatto una serie di video su quella fotocamera che mi è piaciuta veramente tanto, però uno dei difetti maggiori che ho riscontrato nell'utilizzo e soprattutto nelle fasi post-utilizzo di quella fotocamera è il peso delle immagini. Cioè se io vado a dotarmi di una fotocamera come questa e quindi spendo una cifra spropositata perché costa tantissimo, poi devo per forza cambiare tutto il mio ecosistema, devo ricomprare computer nuovi più potenti, devo cambiare tutto in funzione del fatto che ho delle immagini che pesano tantissimo. Io ho l'abbonamento a Google Workspace, quindi ho dello spazio dedicato all'archiviazione, ma lo finisci in un mese se produci dei file così pesanti. Già con l'originale è troppo, cos'era, 42 megapixel è tantissimo, è una roba spropositata. Cioè io veramente se mai nella vita mi dovesse servire di avere 100 megapixel, ma non leggo una Hasselblad piuttosto, non leggo un'altra cosa, non mi interessa, non mi servirà mai nella vita avere tutti quei megapixel. E per chi mi conosce sapete benissimo che io sono a favore dei megapixel, io ne voglio 30, ne voglio almeno 24, dai 24 ai 30 non ne voglio pochi, 12 a me non bastano. Quelli che mi hanno detto, eh ma io con 12 ho sempre stampato, sì va bene, ma forse facciamo cose diverse, io ne voglio 24 o 30. Però ragazzi 61, tanto dispari, a me non piacciono tanto i numeri dispari, 61 ma è veramente una cosa spropositata, vuol dire che riempiamo le card in un attimo, riempiamo il computer in un attimo, ci andiamo ad ammazzare il computer su cui lavoriamo con un peso di questo tipo. È veramente troppo, secondo me questo è troppo. E per contro avevo tessuto le lodi della R5, prima versione, in quanto a gamma dinamica, perché nonostante tutti quei megapixel ha una gamma dinamica veramente incommiabile. Io avrei preferito vedere mantenuto il numero dei megapixel e vedere aumentare la gamma dinamica, per esempio, perché con 42 megapixel andavamo tutti bene o male, cioè alzate le mani, chi ha bisogno di 42 megapixel? Io no, a me ne bastano 30, bastano e avanzano. Sulle mani, chi ha bisogno di 61 megapixel? Secondo me sono troppi. Avrei preferito vedere un lavoro sulla gamma dinamica, magari c'è stato, quindi lo vedremo eventualmente quando uscirà il modello, però così dalle specs avrei preferito vedere che si era lavorato in tal senso piuttosto che espandere i megapixel del sensore. Andiamo avanti e vediamo che ha un Dual Digic X processor, quindi processore bello, processore di ultima generazione, Dual Digic, quindi insomma ci aspettiamo delle prestazioni molto molto alte, ma come è inevitabile su una camera di questa fascia, prestazioni saranno assolutamente top. 30 frame al secondo con lo shutter elettronico con il tracking e 12 frame al secondo con l'otturatore meccanico, quindi meno performante di Canon EOS R6 Mark II volendo, che è quella veramente devastante, però i megapixel giocano un ruolo importante qui, cioè la R6 Mark II ha 24 megapixel se ricordo correttamente, quindi è per forza che riesce a immagazzinare più immagini, pesano di meno. Procedendo vediamo che abbiamo un sensore stabilizzato fino a 8 stop e questa è una cosa buona perché fa piacere avere questa feature, è bello avere la stabilizzazione in body, figuriamoci 8 stop di stabilizzazione, cioè qui fra un po' si scatterà 3 secondi a mano libera, questa cosa è veramente pazzesca delle mirrorless, il connubio tra sensore stabilizzato e stabilizzazione nell'ottica permette di raggiungere dei livelli veramente stratosferici. Ora pane al pane, siamo onesti, io non credo in vita mia che adopererò una cosa del genere professionalmente, ma neanche amatorialmente, nel senso che quando a me capita di essere fuori e fare delle foto anche per me, io la voglio fare bene e quindi voglio mettermi lì col cavalletto, prendermi il mio tempo, fare la composizione, non riuscirò mai a dire adesso faccio questa cosa a mano libera, ci vorrebbe il cavalletto, ma alzo un po' gli ISO così ce la faccio, faccio una posa di 3 secondi con gli ISO più alti, invece avrei dovuto farla da 15, ecco no, questa non è la mia filosofia, io se devo fare una posa da 15 la faccio da 15, se la devo fare da 25 la faccio da 25, se la devo fare da 6 minuti la faccio da 6 minuti, se è per quello, cioè il problema mio non è il tempo, il problema mio è il file d'uscita, la qualità del file d'uscita, quindi è bello avere questa feature, ti può salvare, ti può sicuramente salvare se sei fuori a fare un lavoro, il cliente ti chiede una cosa che non era preventivata e tu gli fai vedere che sputi più lontano di tutti, dici sì, anche se non mi avevi detto che facevamo pose lunghe, anche se non ho portato il cavalletto perché ci eravamo messi d'accordo che facevamo questo, questo e questo, quindi non è che porto roba in più, anche se mi hai fatto questo sgambetto, io te la metto in quel posto lo stesso perché te la faccio ugualmente, la foto, quello è una cosa bella, questa è la cosa bella di una feature come questa, per il resto io cercherei e cercherò in futuro di non usarla questa feature, di non affidarmi troppo alla stabilizzazione perché poi diventa una cosa, preferisco lavorare in maniera tradizionale, anche perché poi bisogna educare i clienti, io non voglio educare il mio cliente che è come il cellulare, si fa pum, fine, foto fatta, no, io non voglio che il mio cliente abbia questa percezione, il mio cliente deve continuare a percepirmi come lo stronzo che va lì e ci mette un'ora a fare una foto perché la fa meglio di te, se io comincio a metterci meno tempo, non mi piace, cose che professionalmente non mi piacciono, voglio tenerle come sono adesso, ognuno ha i suoi clienti, ci si tara sui propri clienti, io conosco i gusti dei miei clienti, quindi fidatevi, so che è così. Una cosa che potrebbe essere interessante, che a me non servirà mai, ma perché io non faccio quei generi fotografici, vedo che qui abbiamo un 2x, 4x, 8x digital teleconverter, suppongo in camera, quindi similarmente a come abbiamo già visto su Canon EOS R7, con cui sto filmando in questo momento, abbiamo la possibilità di, non di fare un crop, perché non è un vero e proprio crop, abbiamo la possibilità di avere un teleconverter interno alla camera, questo è molto interessante perché a questo punto ci permette di, sfruttando una focale più corta, ci permette di allungarla, senza bisogno di magari portarci dietro più lenti, quindi questa io la trovo una cosa molto molto interessante, mi piacerebbe ancora di più se si potesse fare l'inverso ovviamente, cioè da una focale data andare ad ampliare l'angolo di campo, quello mi piacerebbe ancora di più, mi rendo conto che è più complicato per una serie di motivi, quindi mi accontento del rapporto lente-sensore di base, diciamo questa è una feature che io non userò mai perché non faccio né wildlife né sport, però a tutti quelli che fanno wildlife e sport, questa feature può interessare parecchio e questa è una fotocamera che chiaramente ammica al mondo dello sport perché con tutte le feature che ha, cioè io faccio fotografia industriale, fotografia di interni, ogni tanto ritratto, a me non serve questa fotocamera, è molto più utile a qualcuno che fa sport, a qualcuno che fa natura, a qualcuno che ha bisogno di un'alta affidabilità e un'alta precisione, matrimoni magari, se uno fa matrimoni e riesce a farsi pagare tanto, questa può essere la fotocamera giusta, non perdi un secondo, non perdi un battito di ciglia di tutto il matrimonio con una fotocamera del genere e puoi contare i peli della barba dello sposo in ogni foto, quindi da quel punto di vista va benissimo. Oh ecco le cose che piacciono a me, registrazione interna 4k, 30p, 60p, 120p, oh che bello, 120p col 4k, questo mi piace veramente tanto. Fra l'altro tutto con l'oversampling, quindi immagino con l'oversampling dal 6, 7, 8k, insomma con l'oversampling, quindi saranno delle immagini paurose. Full HD, 240 frame al secondo, anche questo ci piace perché, avevo già parlato in un video passato, io non lo uso mai il 240 frame al secondo, l'ho usato vi dico una volta in tutta la mia vita e quell'unica volta ho noleggiato la Sony Alpha 7S III, quindi non mi serve quella feature lì, non sono disposto a pagare tanto per avere una videocamera che mi dà quella feature, perché io lo scatto professionalmente dal 2012, quindi sono 10-11 anni, mi è servito una volta sola scattare a girare a 240 frame al secondo, quindi non sono disposto a pagare un sovrapprezzo per quella feature, però nel momento in cui ti vai a dotare di una camera come questa, perché vuoi 61 megapixel o perché vuoi girare in 4k con l'oversampling a 120 frame al secondo, hai anche la possibilità di girare in Full HD a 240, schifo non fa, è una cosa in più, farebbe piacere averla questa cosa in più perché come dico sempre puoi non usarla, però c'è e quando c'è fa piacere perché se cambi idea è lì che ti aspetta. Qui abbiamo un'altra cosa che mi fa molto ben sperare, io qui leggo Focus Breathing Correction for Video, questa è una cosa, sembra stupida, sembra una cosa stupida, però quando ho utilizzato proprio R5 la prima versione e devo dire che qui c'è un vizio di forma perché io l'ho utilizzata con l'anello adattatore, l'ho utilizzata con le F2470, quindi una lente vecchia, probabilmente con una lente RF questo problema non l'avrei avuto, però durante l'utilizzo ho riscontrato dei problemi di Focus Breathing durante la registrazione del video e anche delle foto per la verità, c'è proprio il problema del Focus Breathing, quindi il fatto che sulla registrazione video abbiano lavorato per eliminarlo, bello, fa solo piacere, ripeto non era un problema grave invalidante, era un problema che si verificava per lo più quando la macchina non era in utilizzo, quindi quando io non stavo scattando la macchina andava in Focus Breathing per i movimenti che io facevo perché magari stavo parlando col cliente la macchina andava in Focus Breathing, ma durante la ripresa questo problema c'era sensibilmente di meno e comunque secondo me il problema non ci sarebbe stato con un'ottica RF, però già che ci hanno lavorato sono contento, fa solo piacere. Un'altra cosa essenziale, nuovo sistema di prevenzione del surriscaldamento, similare a quello che troveremo in Canon EOS R6 Mark II, che ci garantisce 40 minuti di registrazione per l'8K, 60 minuti di registrazione per il 4K, quindi questa è una cosa molto buona, vi dico in tutta onestà che vedo molto difficile uno scenario in cui si registrano più di 40 minuti in 8K, cioè dobbiamo anche pensare che l'8K è un formato che nasce con velleità cinematografiche, cioè vuole rincorrere le macchine da presa che fanno un'altra cosa proprio. Il fatto di dire io giro in 8K, ma anche in 4K RAW e giro per 40 minuti di fila, è un controsenso pazzesco, perché se io sto facendo un film, ma anche una serie, io sto facendo delle scene posate con tutto sotto controllo e non giro 40 minuti di seguito, perché faccio la mia scena ma c'ho il calendario, quindi dico ok, oggi dobbiamo fare la scena con Pierino che esce di casa, facciamo la scena con Pierino che esce di casa, ma è una scena di 6 secondi e c'è lo stop subito dopo quei 6 secondi e poi si ferma tutto, ci si sposta, si fa un'altra scena, si fa l'antrangolazione, si fanno le coperture, però non si girano 40 minuti di seguito in 8K RAW, quindi secondo me è un problema che esiste e non esiste, cioè sappiamo che si surriscalda, se facciamo il test la mettiamo lì, si surriscalda va bene, però girare 40 minuti di fila in 8K RAW, diciamo che per quanto mi riguarda non ha senso, nel momento in cui uno mi dice, cioè un mio cliente mi dice no guarda io ho bisogno di fare tutta la giornata in 8K RAW, benissimo, la strumentazione che ho io non va bene, adesso non leggiamo una videocamera da cinema di quelle proprio con gli allacci, con tutto cablato, perché a quel punto se tu vuoi girare in 8K RAW ci vogliono delle memorie esterne, ci vogliono degli alimentatori, non si può fare con una macchina run and gun quella roba lì, quindi è proprio sbagliato pensare di volerla quella roba lì, fa piacere sapere che hai a disposizione quel tempo di registrazione perché magari fai più cose run and gun, secondo me non le fai in 8K RAW, se devi girare in 8K RAW per più tempo prendi un'altra cosa. Per quanto riguarda il card slot, amanti del dual card slot, qui abbiamo una doppia compact flash express type B, quindi doppia, e questo non è che fa piacere, è inevitabile perché con le dimensioni di scrittura che avranno questi file, cioè bisognerebbe mettergli una vasca da bagno per raccogliere i file dentro a sta fotocamera, cioè come cacchio fa a scrivere quella roba così gigante? Io sono curioso di vedere come performa, sicuramente performa era bene, ma io ho avuto un lievissimo problema anche su R5 prima versione, nel momento in cui sono andato a scrivere 8K RAW, ho fatto un test, mi ha riempito il buffer molto in fretta, quindi mi è andata in blocco proprio la scheda, perché la scheda che avevo noleggiato l'avevo noleggiata per fare timelapse, quindi non era una card abbastanza veloce per registrare l'8K, però anche questo è un problema, cioè noi dobbiamo anche prevedere che se vogliamo scrivere quei formati probabilmente dovremo o usare una memoria esterna o comunque comprare la memory card più costosa che esiste sul mercato e stiamo parlando di, non mi stupirei se arrivassero sui 300€ ormai quelle memory card lì, 2, quindi 600€ di memory card, che poi si riempiono in fretta perché quei file sono giganti, tutte queste sono cose che mi fanno comunque un po' storcere il naso, perché il discorso è sempre quello, se vuoi scrivere quei formati così grossi perché stai facendo una produzione di un certo tipo, secondo me prendi un'altra cosa, quindi è bello avere una fotocamera che ti permette di farlo, magari vuoi fare 30 secondi di quella roba lì perché dici c'è un tramonto bellissimo, una vista bellissima la riprendo in 8k, 30 secondi però, non 40 minuti e soprattutto 30 secondi ok ma non ti riempi la memory card con tanti filmati di quel tipo perché poi quando arrivi a casa ma ti esplode il computer appena provi a scaricarli, quindi queste sono cose da tenere a mente. Ora standard HDMI port e questo va bene, dual USB-C port, quindi questo è interessante perché avrà la doppia USB di tipo C, quindi si potrà per esempio utilizzare il cavo di alimentazione per alimentare la videocamera e quindi tenerla accesa per un tempo superiore alla durata della batteria e contemporaneamente attaccare qualcos'altro, un altro device, un'estensione, una periferica con l'altra porta. Questo è una cosa molto interessante perché comunque qui è un utilizzo complesso che si deve fare di una macchina di questo tipo ovviamente, non si può pensare di prenderla e andare al parco a fotografare le anatre. Beati voi, se potete permettervi di comprare una camera come questa per andare a fotografare le anatre io sono solo invidioso, ve lo dico col cuore in mano. New design of very angle LCD monitor optimized for video shooting. Ok, questo è carino, abbiamo un nuovo design per il monitor quindi probabilmente sarà più articolabile e quindi sarà ottimizzato per la registrazione video. Spero che non abbiano fatto la porcata di farlo troppo articolato che poi diventa sempre più fragile. A me non piacciono mica quei monitor, li sono così fragilini. Spero che l'abbiano mantenuto come adesso e abbiano solo lievemente modificato il tilt che possiamo fare ma mantenendolo. Perché il problema è che su una camera come quella se mi infragilisci la parte che già è più fragile, quello basta che prende un colpo e 6.000 euro di camera te la sei già giocata. Prevista per il 2023 quindi non ci resta altro da fare che aspettare in realtà. Io adesso sto elucubrando ma in realtà queste sono specs che sono trappelate ma non sono ancora confermate, non sono ancora ufficiali quindi possono ancora esserci dei cambiamenti, possono esserci delle cose in più, possono esserci delle migliorie e non ho ancora visto nulla sulla disposizione dei bottoni sul corpo macchina. Penso che rimarranno esattamente gli stessi della R5 perché era perfetta quella camera, assolutamente perfetta come disposizione dei bottoni. Quindi proprio zero da dire, niente da dire. Era veramente perfetta così. Spero la tengano così come era perché era una bomba. Avremo le solite feature, avremo la tropicalizzazione, sarà bella carrozzata, sarà comunque una bellissima camera. Ora però la mia riflessione va sempre lì e non voglio andare a puntare sul prezzo perché non è una questione di prezzo. Sapete, nel momento in cui ti trovi un cliente che ti dice guarda io non ho budget, non me ne frega un cavolo quanto devi spendere tu per la fotocamera, devi spendere 10.000 euro per comprarti la fotocamera che ti serve per farmi il lavoro, te la pago io, non me ne frega niente, te la pago io così poi lavori, per me non mi rompi le scatole. Se trovi quel tipo di cliente, io un paio ne ho di clienti così, non è che mi comprano le robe però quando gli dici guarda c'è una difficoltà con la mia strumentazione questa cosa non si riesce a farlo. Io glielo segnalo per trasparenza perché ormai abbiamo un rapporto per cui io so benissimo che lui mi guarda, alza il sopracciglio e mi dice ma questo è un problema? Dico no no, non è un problema, te lo sto solo segnalando perché ti metterò nel preventivo anche il noleggio di una cosa in più, punto, fine. Quindi se trovate quel tipo di cliente con cui vi ripagate quello che state facendo, ma lì non ci sono problemi, lì potete prendere tutto quello che volete, motivandoglielo ovviamente perché se vi ha chiesto di fargli una foto corporate non potete andare lì con la C70 e dirgli eh no, devo prendere per forza questa perché sennò viene male. Cioè bisogna anche fare le cose con un minimo di senno, però se trovate quel tipo di cliente gli potete vendere la qualsiasi, con senno ripeto senza infinocchiarlo perché sennò se ne accorge, però se avete quel tipo di cliente potete anche andare a permettervi una fotocamera di questo tipo. A me personalmente non conviene perché faccio tutto con quello che ho già, ho provato R5, mi è piaciuta tantissimo ma non ho intenzione di comprare una fotocamera come quella perché costa troppo, costa troppo per le mie tasche, faccio fatica a ripagarmela, non dà nessun valore aggiunto ai miei clienti perché i miei clienti non mi hanno chiesto l'8K RAW, non me l'hanno chiesto, non gliene frega niente. I miei clienti vogliono delle cose che funzionino per i social, funzionino per delle campagne non gliene frega niente dell'8K RAW, non lo vogliono e non lo voglio neanch'io perché non voglio dover cambiare computer per andare poi a editare l'8K RAW, non voglio andare a cambiare tutte le mie periferiche esterne perché devono reggermi più roba, voglio tenermi quello che ho in questo momento, non voglio fare questo step adesso. Adesso io sono entrato nel 4K, sono tutti gli effetti uno dei tanti creator ma non tutti che fanno le cose in 4K, la maggior parte dei creator, fateci caso, a meno che non siano creator che fanno quello che faccio io, cioè che si occupano di immagine, la maggior parte stanno ancora lavorando in Full HD. Quindi io sono uno dei tanti ma pochi sul totale che stanno lavorando in 4K. Non ho voglia di passare all'8K RAW già, adesso mi sembra assolutamente prematuro e non ho intenzione di farlo. Secondo me sono veramente pochi quelli che hanno bisogno di quella roba lì, così come sono veramente pochi quelli che hanno bisogno di 61 megapixel. Ora, questa fotocamera quanto costerà? Io qui sulle specs non vedo nulla relativo al prezzo, il che può essere un bene, può essere anche un male. Ora, basandoci su una mia pura lucubrazione, se Canon R6 costava, e correggetemi se sbaglio, 2600 euro e R6 Mark 2 è uscita a 3000, più o meno, io posso prevedere che se Canon EOS R5, prima versione, costa, costava 4300 quando l'ho noleggiata, adesso non so se i prezzi sono cambiata, quando ho controllato costava 4300. Io la Mark II me l'aspetto che costi 5000, ma anche 5005, cioè me lo aspetto, mi aspetto che costi non meno di 5000, assolutamente. In questo modo abbiamo R3 che costa, cos'è, 6000, 6099, non mi ricordo più, insomma costa di più, poi abbiamo R5 Mark II, R5 e poi R6 Mark II, così sono distribuite. Il punto qual è? Costano secondo me troppo, cioè ci sono veramente pochi fotografi, poche produzioni che possono permettersi una fotocamera di quel tipo, e a pochissimi serve una fotocamera di quel tipo, perché è troppo, è troppo potente, veramente troppo. Io preferisco R6 Mark II, io sono su quel target lì, quella mi piace di più, costa un po' di meno, ti dà qualcosa di meno, ma a me non serve la roba in più che ci sarebbe su R5 Mark II, quindi sarei molto più orientato su R6 Mark II, mi piace veramente tanto quella camera. Infatti prima o poi abituatevi all'idea perché non solo ve ne parlerò, ma prima o poi magari mi casca nel carrello della spesa. Detto questo, io non voglio allungare all'infinito il brodo, quindi vi direi che ho parlato anche abbastanza, ma a questo punto vi aspetto nei commenti, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Io voglio vedere se c'è qualcuno che mi dice che lui ha bisogno di 61 megapixel, così come voglio vedere se c'è qualcuno che mi dice no, io giro tutto in 8K RAW perché sennò non mi piace. Vi aspetto nei commenti, fatemelo sapere perché sono veramente curioso, ditemi che cosa non ho capito. Amici, con questo è tutto e io vi do appuntamento al prossimo video. Iscriviti al nostro canale